Buongiorno, ecco qua la registrazione della musica nell'antichità. Questa dispensa parliamo un po' della nascita della musica, una musica che quindi non troviamo solo nei giorni nostri, ma risale veramente al tempo dei tempi. E mi piacerebbe farvi notare come molte della musica di adesso non è niente di che rispetto a, se non magari, una semplice evoluzione di quello che comunque già esisteva. Quindi è bene sapere davvero del nostro passato e in questo caso anche del nostro passato nella musica per capire ancora meglio l'importanza che essa ha, indipendentemente dal fatto di farlo a scuola due ore, quattro ore, che ne so, non è importante questo, ma è importante capire che tutti noi possiamo non solo fruire della musica ma essere anche fautori di qualche cosa legato alla musica e adesso dei lavori, in questo senso ce ne sono tantissimi, basta pensare, non so, alla colonna sonora di un film, allo spot, sulle cose, insomma, che ci vengono oltre che il fatto di cantare o di suonare, però c'è sempre, c'è sempre. E la funzione della musica. Ecco, in generale possiamo dire che la funzione della musica nell'antichità è stata sempre e soprattutto legata a una questione divina, no? ma partendo dagli uomini primitivi, allora, fino a, diciamo, all'illuminismo, possiamo dire, al metodo scientifico, determinate cose, Galileo, Galilei, magari facciamo la fine del Cinquecento, comunque, insomma, moltissimi avvenimenti non si potevano spiegare, non si sapevano spiegare che non con qualcosa di magico o di divino, se eravamo politeisti, agli dèi, monoteisti, a Dio, Allah, insomma, a Buddha, insomma, a chi vogliamo, ma in ogni caso non riuscivamo a trovare delle spiegazioni. E anche questa cosa la ritroviamo nelle civiltà antiche. Ma altra domanda, ma esistevano gli strumenti musicali nell'antichità e in questo ci viene aiuto, sempre come sempre, l'archeologia, perché grazie ai reperti archeologici, no? Possiamo vedere che, ad esempio, da questo affresco di Pompei, anche a Pompei, c'era il timpano, comunque c'erano il flauto, quindi suonavano, magari danzavano, quindi c'era la musica, si faceva musica, ma anche nell'età preistorica. E il primo strumento musicale, guardiamo il body percussion di adesso, ma il primo strumento musicale anche per l'uomo primitivo era il corpo umano, si doveva chiamare qualcuno, magari non aveva ancora l'uso del linguaggio, ma poteva emettere dei versi, poteva utilizzare il battito delle mani, pestare i piedi, schiuccare le dita, la nostra body percussion non ha praticamente scoperto nulla di che. E poi, gli strumenti musicali, sì c'erano, e li facevano con che cosa? Con quello che troviamo nella natura, magari adesso ci viene da fare, non so, ci sono le orchestre, dei prodotti riciclati, no? Oppure prendiamo i bidoni e suoniamo i bidoni, i piatti, qualsiasi cosa. Benissimo, e noi abbiamo gli strumenti dedicati alla musica. Però, nel passato, no, ma cosa prendevano? La conchiglia ci suonavano dentro, aveva un suono, io ve li ho mandati a dei suoni tipici dell'uomo primitivo, per far capire com'era questa musica. Oppure l'osso di un animale, poteva diventare un flauto, no? E tutto il primo reperto risale addirittura a 40.000 anni fa. Beh, soprattutto con gli uomini primitivi, è logico che questa musica sia legata alla divinità, così come la magia veniva utilizzata per chiamare gli dèi, ma non solo con gli uomini primitivi questi, eh. Magari avevano, c'era lo sciamano, ma lo sciamano lo troviamo anche adesso in alcune tribù, non so, dell'Amazzonia, no? Oppure lo vediamo quando vediamo il film con gli indiani d'America, no? Il western è l'indiano che è lo sciamano che gira attorno al fuoco, chiama mani tue, eccetera. Insomma, cosa fanno? Hanno tutti questi suoni legati, suonagli legati al corpo per attirare, per richiamare, per allietare gli dèi, fare in modo che le risposte a delle loro domande possano venire dagli dèi stessi. E qua vi ho messo degli strumenti musicali e anche questo famoso flauto, scusatemi, di osso. E a che cosa poteva servire ancora la musica negli uomini primitivi? Imitava i versi degli animali, ma ragazzi anche qua se qualcuno va a caccia o anche solo per diletto abbiamo il fischietto che richiama un determinato tipo di uccello o anche solo per scherzo. Quindi la funzionalità di un tempo può essere quella di adesso. Avevamo, non so, le fasi del lavoro, dava il ritmo, il ritmo a un determinato lavoro. Noi più semplicemente, non so quante volte magari voi volete fare un lavoro con l'accompagnamento sottofondo della musica perché vi allieta, vi dilassa oppure vi dà più energia. O nel tempo, quando nelle navi con gli schiavi o i trigionieri, le famose galere, dovevano vogare, c'era uno che dava il ritmo, no? E quindi anche questo. Oppure l'alternarsi del periodo della vita. Nascita, c'è una festa, il battesimo, il matrimonio, oppure c'è una festa triste per il funerale. O gli eventi della natura, bene, la festa di primavera o la festa, non so, dell'uva in autunno quando si vendemmia, no? Prima dell'autunno, insomma, quando si vendemmia. E poi ancora riproducevano i rumori dell'ambiente, ma quest'ora abbiamo anche noi col sintetizzatore, eccetera. Una curiosità, Stalatiti e Stalagmiti, gli uomini primitivi magari vivevano nelle rocce, poi c'erano gli stalatiti, scusate, quelli in alto, gli stalagmiti, avevano scoperto che siccome erano cavi all'interno, bastava battere con il palmo sulla stalatite e si sentiva un suono, no? E anche questo era uno strumento. Altra civietà, Egitto e Mesopotamia. Qua, devo dire, non solo qua, ma anche in altre civiltà, gli esecutori molto spesso erano dei professionisti. E anche qua, ma in tutte le civiltà che noi vedremo, la musica accompagna ogni momento della vita sociale. Quindi anche quello militare, e laddove la vita militare, mettiamo nella cultura, nella civiltà romana, era preponderante, sicuramente anche in quella. In molte civiltà accompagnava anche, era importante per l'educazione dei ragazzi. Ora, nella civiltà mesopotamica, quindi parliamo dei sumeri, caspita, consideravano addirittura sacri degli strumenti musicali e, sentite, sentite, le prime forme di notazione, di scrittura musicale, che comunque veniva per di più sempre tramandata oralmente, le troviamo però con i sumeri. E qua abbiamo un esempio dell'arpa, cordofono, abbiamo studiato prima uno strumento musicale, cordofono, l'arpa, questo è uno dei più antichi reperti. In Egitto la musica era considerata un dono divino, è da parte di Thoth agli esseri umani. Il faraone, anch'esso considerato una divinità, manteneva un'intera orchestra di professionisti. Attenzione, attenzione. E, tra i vari strumenti che abbiamo in Egitto, vi ho messo questo del sistro di metallo, oltre che all'arpa che veniva utilizzata. Perché? Perché quando poi si farà Mozart nel 1700, con soprattutto l'opera Il flauto magico, il sistro verrà nominato e ci sarà come strumento, uno strumento per questioni con le note acute. Non dico tipo un, come che si chiama il triangolo, ancora più acuto, e forse in un ascolto che vi ho allegato c'era segnato questo strumento. Qua c'è un'altra figura un po' più moderna, no? Che non c'entra niente con l'Egitto. Allora, gli egiziani non avevano una scrittura, una notazione musicale, ma utilizzavano la chironomia, cioè la posizione della mano e delle braccia delle braccia per indicare l'altezza dei suoni, non magari la durata, ma l'altezza. E, caspita, ma anche qua abbiamo questa chironomia che utilizziamo anche noi oggi, no? Per indicare l'altezza, qual è il DO, il RE, il MI, vedete qua, DO, RE, MI, guardate la manina, pugno, un po' inclinata in alto, dritta il MI, il FA è giù, capito? Quindi, anche qua, abbiamo inventato qualcosa? No, non abbiamo inventato nulla. India e Grecia forse sono due punti un po' più importanti e a volte un po' più difficili, che prendiamo però così, in generale. Allora, abbiamo in India un libro importantissimo che raccoglie gli miei versi che si chiama Sama Veda e questi miei versi venivano cantati dai sacerdoti utilizzando delle melodie particolari. Da queste melodie particolari, da questi canti dei sacerdoti, si originano i raga. Allora, i raga sono delle melodie, dei temi base, ok? E le melodie di solito era una melodia monodica, quindi una sola melodia e prevedeva sette suoni, una scala con sette suoni, ok? Questo raga poi su questa melodia base, ok? Facevano dei cambiamenti, delle ornamentazioni, delle aggiungevano, abbellivano la melodia e in base alle note che aggiungevano, di abbellimento, avevamo un tipo di sonorità rispetto a un altro, quindi, se ero triste, avevo una sonorità, magari per esprimere questo sentimento di tristezza, utilizzavo una melodia base, cioè un raga, con una sequenza delle sette note particolari, che mi dava questa sensazione un po' nostalgica e poi ci aggiungevo altre note sopra, però sempre una melodia, non più voci, non più suoni contemporaneamente, polifonia, che poi vedremo successivamente con il Medioevo, ok? Ma una melodia semplice, ecco, ricordatevi, questo concetto di base, di una melodia di base, in questo caso formata da sette suoni, su cui poi, che veniva arricchita, con altre note tra una e l'altra, parlano molto, molto, molto semplicemente, questa base venivano chiamati raga. Il ritmo è un ritmo ciclico di questa melodia, di questi raga, quindi ciclico vuol dire che finita una sequenza di ritmo, si ripete ancora la stessa sequenza ritmica, ok? Va bene? Poi abbiamo questi strumenti musicali, qualcuno ve l'ho messo, ecco, cerchiamo di ricordarci almeno il sitar, che è il strumento tipico che troviamo anche nei film, in genere, ovunque, qualsiasi genere. Ecco, prima di passare alla cena, facciamo un attimo la Grecia, perché in Grecia ci ricolleghiamo veramente con il concetto dei raga indiani, ok? Qua, la scala musicale greca è formata da quattro suoni, ok? E si chiamano nomos, nomos, una scala nomos, i nomoi, sono il gruppo di queste quattro note, è una mini melodia, no? il raga sette note, nomoi, nomos, quattro note, quindi un tetra, tetracordo, quindi una scala di quattro note. Ci siamo sempre, però, con il, com'è che si chiama? Ecco qua, una base, una melodia base. In questo caso, dipendeva dal nome di questa melodia base, dipendeva da dove si trovava un semitono, adesso questa non dovete per forza saperlo, però sapete solo che c'era una monodia, una melodia di base, è formata, che si chiamava un modo, praticamente, nomos, modo, in base a com'è strutturate le note all'interno di questa melodia base, il modo poteva chiamarsi dorico, frigio o lidio, dorico, frigio o lidio, e in base appunto a com'erano messe queste note, la sensazione, il suono che si veniva a creare, creava una determinata atmosfera, quindi veniva utilizzato per determinate manifestazioni piuttosto che per altre, quindi per pensare a qualcosa di verile, di bellicoso, di maestoso e per aiutare i giovani che dovevano essere comunque belli, forti, comunque colti, eccetera, ma in ogni caso grintosi, si usava il modo dorico, frigio invece serviva per qualcosa di più festivo, festoso, scusatemi, gioioso, quindi per cercare di catturare l'amicizia degli dèi, il lidio era sentimentale, quindi assolutamente non doveva essere utilizzato per l'educazione dei giovani perché altrimenti indeboliva i loro animi. Questa sequenza con Pitagora, il nostro famoso Pitagora del Teorema di Pitagora, è stato importantissimo anche per la musica e vedremo poi per la questione della, come si chiama, degli armoni, e Pitagora ha creato, quindi con Pitagora si stacca un po' da questi nomos, nomoi, e si parla della armonia. L'armonia è una successione di otto suoni, quindi se un tetracordo è fatto da quattro suoni, un'armonia di otto suoni sarà costituita da due tetracordi. La notazione musicale dei greci era una notazione alfabetica diversa tra se c'era la voce o se era solo lo strumento, le lettere dell'alfabeto erano capovolte. Quindi, ricordiamoci questo per quanto riguarda la Grecia, la cultura musicale grecia. Il suono, la musica aveva un importantissimo ruolo nell'educazione dei giovani e, caspita, l'altra cosa importante, era legata alla poesia, alla danza e al teatro. Di fatto, queste arti erano protette dalle muse. Le muse erano degli aiutanti di Apollo, guarda caso, anch'esso suonatori di lira. Altre attività legate alla musica sono il Pan, dio dei boschi, che suona il Siris, il famoso flauto a cane, il flauto di Pan, Dioniso, chiamato Bacco per i romani, che era il dio della danza, dell'estasi, del vino, della vegetazione, insomma, a cui era associato l'aulos. Cos'è l'aulos? Guardate la marca del vostro flauto, spesso c'è scritto Aulos, quindi questa fabbrica di produzione di flauti ha preso il nome del nome del flauto. Si parlava di un flauto doppio, guardate questo praticamente, fatto con due canne, eccolo qua, questo, oppure c'era appunto la cetra. Quindi, abbiamo detto che è monodica sempre, perché altrimenti più suoni assieme creano confusione e l'altra cosa importante della musica è che era legata alla poesia, l'altra arte, perché i poeti spesso quando declamavano le loro poesie venivano, si accompagnavano e venivano accompagnati anche dalla musica, ma non solo era importante per i poeti, nasce anche ad Atene il quinto secolo il teatro, e nel teatro cosa abbiamo? a parte la struttura del teatro, qua il palcoscenico con già una struttura, questo è il teatro di Taormina, è una struttura montata scenicamente, questa è la cavea dove ci sono le gradinate, ci stavano il pubblico, tipo il nostro palco, qua la platea, che non si chiamava platea, ora qua ci sta, anche se guardiamo nell'arena di Verona, ci stanno le poltroncine, in teoria questa è appunto, viene chiamata orchestra e ci stava il coro, il coro cosa faceva? Il coro sempre in forma monodica interveniva per commentare le vicende dei personaggi, per esprimere dei sentimenti dei personaggi, mentre invece l'azione veniva, avveniva con la recitazione dei personaggi, ma da questo ci ricorda veramente tantissimo anche il teatro dell'opera, il teatro d'opera e ne parleremo più avanti, dove comunque quando interviene il coro o quando ci sono delle parti di insieme dove si esprimono dei sentimenti, la vicenda non va avanti, mentre invece quando c'è un'aria, cioè anche solo una persona che canta, perché in questo caso nell'opera c'è la musica, nell'opera lirica c'è la musica, la vicenda va avanti, oppure nel recitativo, ecco, è la parte del recitativo, i personaggi quando recitano portano avanti l'azione, poi arriva il coro che interviene dicendo la sua, mi viene in mente mentre stavo spiegando questo, è un cartone animato Hercules, dove c'è, se lo guardate, è bellissimo, a me piacciono molti questi cartoni animati, se guardate il cartone animato Hercules abbiamo l'intervento delle muse, del coro, che fa il commento alle vicende che stanno accadendo, ecco, quindi torniamo indietro, abbiamo parlato, abbiamo fatto l'India e la Grecia proprio perché avevano questi due tipi di scale diversi, un altro tipo di scala, dove comunque non c'è una melodia che ha un nome particolare come quella che abbiamo visto adesso, è la Cina, di fatto, ecco sì, dopo l'India avevamo la Cina, ok, nella Cina perché la scala utilizzata nella musica cinese è una scala pentatonica o pentafonica, quindi con cinque toni, con cinque suoni, ok, e anche questa struttura di avere dei cinque toni, cinque toni, non come da noi due toni, un semitono, un tritono, un semitono, infatti poi questo studieremo più avanti, ma cinque toni dà alla melodia un'atmosfera particolare, però anche qua non si fugge, è di origine divina, serve per un contatto tra l'ivino e l'umano, una predominanza della monodia, cioè una sola linea melodica, perché altrimenti troppo crea confusione, abbiamo anche qua un libro dei canti importanti, importanti, dove vengono contenuti tutte le musiche del corte, cerimonie d'amore, di guerra, ed era talmente importante questa per l'educazione dei giovani e la musica, ma per tutta la vicenda, per tutta la vita dei cinesi, che addirittura viene istituito, creato un ufficio imperiale della musica, per controllare la diffusione e le forme musicali, pensate un po' come era importante. Anche qua abbiamo messo degli esempi di strumenti musicali e qua abbiamo fatto, per quanto riguarda il repertorio popolare, era suddiviso in due gruppi. C'erano i canti per bambini, ma li troviamo anche adesso, no? Quelli per imparare i colori, gli animali, i proverbi, le stagioni e così, e i canti per adulti, che erano un po' più ironici, satirici, ma basta pensare adesso a volte alle, come si chiama, a quando si fanno le canzoni, le parodie, no? Di determinate canzoni. Bene, Palestina, quindi qua si parla della musica ebraica, ma anche qua, qua come non può essere di più che una presenza, una benedizione di Dio, e tra l'altro la vediamo e abbiamo questo, sentiamo parlare della musica nella Bibbia, dove troviamo tutti veramente, sono ricordati i canti di guerra, funebri, inuziali, canti di lavoro e i salmi, ma il salmo sapete cosa è, prima lettura, seconda lettura, tra prima e la seconda del salmo, salmi di Davide, a Davide sono stati attribuiti 70 salmi, ma anche di più, e quindi niente, quindi intonati con la musica. Grecia ne abbiamo parlato e dopodiché passiamo alla cultura romana ed etrusca. I etruschi erano un popolo confinante con Roma, ben presto poi inglobato e conquistato da Roma e ha portato, è sicuramente stato molto influenzato dalla cultura romana, è stato molto influenzato dalla cultura etrusca, da cui ha preso anche uno strumento musicale, eccolo qua, il plagiolos, aulos, no, flauto, guardate qua, questo flauto, viene dalla cultura musicale etrusca. Poi abbiamo messo altri strumenti a percussione del popolo etrusco e ecco, l'importante, i romani non riconoscono un valore educativo alla musica, questa è la differenza con le altre culture che abbiamo visto precedentemente, perché indebolisce la forza guerriera, quindi assolutamente la musica viene utilizzata dai romani con grandi spettacoli e grandi core e grandi orchestre, anche nei circhi per le manifestazioni dei gladiatori, guardatelo qua come è raffigurato, certo che ci sono, guardatelo qua, ecco la boccina, ecco qua, oppure l'idraulos, questo organo che funziona con una pompa d'acqua che poi pompa l'aria che poi fa suonare le canne e oppure prendono altri strumenti, la fistola, questo sembra poi il flauto di pan, no? Anche qua abbiamo bacco con le feste che venivano in suonore che venivano chiamate baccanali che poi ricorderemo che poi ci riporteremo anche con il tempo avanti fino ad oggi non si chiamano baccanali ma la festa dell'uva è una festa relativa a questo al vino, alla gioia, eccetera e non dobbiamo dimenticarci che anche qua così come in Grecia per il popolo romano il teatro era molto importante, il teatro romano soprattutto con le commedie e soprattutto con il plauto all'interno di questo teatro c'erano delle parti cantate da più attori e parti cantate da un solo attore questi si chiamavano cantica ok? poi qua ogni tanto vedo che ci sono degli errori però perdonate va bene va bene così ok? e venivano eseguite anche le danze in scena finito qua tutto qua quello che dovete sapere dovete ascoltare gli esempi che vi ho dato giusto per farvi un orecchio no? se ci sono delle domande rispondete poi c'era quella quell'eserciziario che dovrebbe già riportarvi delle soluzioni alla fine altrimenti ci aggiorniamo e ho messo una un appendicio che riguarda la musica le prime donne musiciste perché per anni le donne veramente nel campo della musica del teatro sono state un po' relegate attori erano solo maschi cantanti non sono maschi anche quando dovevano interpretare le parti femminili utilizzavano una maschera oppure c'erano entrate sti insomma però grazie veramente ai reperti archeologici qua vediamo una fresco sempre di Pompei vediamo che anche le donne nel passato magari poche ma hanno sono state importanti nella musica e qua vediamo una donna che suona la cetra e e così anche nella Bibbia abbiamo degli esempi di Miriam che suona che ha in mano un timpano leggiamo quindi nel Vecchio Testamento tra l'altro quindi ecco ve l'ho messo come curiosità anche perché magari appunto potreste approfondire uno di questi argomenti se vi va buona e buono studio